Salve a tutti ragazzi e benvenuti al vostro amico di P2800 Siamo qui oggi su... Eh si sto per dire Anger Games Siamo qui oggi su O-Game ragazzi Tanto è arrivato un nuovo confine, nuovi pianeti eccetera 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 Quindi, quindi, quindi oggi ragazzi Vediamo se riusciamo a fare una colonia Su una posizione 10 Colonizzazione Allora Gli mandiamo una navetta di queste e Diciamoli 25 incrociatori Cos'è meno sta un po' protetta Avanti Colonizzazione Ci portiamo appresso Un po' di cristallo Diciamo 2300 E inviamo la flotta Invia la flotta Così iniziamo con un pianeta E c'ha almeno un po' di risorse subito pronte all'uso Poi, poi, poi Facciamo anche una spedizione Quindi andiamo sempre in galassia Oggi ragazzi è la giornata Di tutto Colonizzazione e spedizioni Facciamo una bella spedizione Mandiamo tutti questi incrociatori E anche i caccini e i caccioni Ah non posso perché non ho le cose flotta Non mi ricordo cos'era la ricerca Mi sembra che sia Non mi ricordo la ricerca cos'era Mi sembra che sia una ricerca tecnologica Non vorrei dire una cazzata Però mi sembra che sia questo Sì, esatto Quindi ne facciamo ancora uno Tra un minuto mi viene pronta anche la cosa Quindi potremo fare anche la spedizione subito E farei qualche navetta Nel frattempo Non troppe Giusta? No, nessuna Per il momento no Andiamo nelle difese Ci organizziamo un po' con le difese anche Tipo mettiamo qualche altro laserino Diciamo mettiamole tutti quello che posso fare E adesso aspettiamo Quanto? No, è vero È una ricerca È una ricerca Lipide dove vai Da un po' che non ho giocato a game Da un po' che non facciamo un video su game Allora ancora 46 secondi ragazzi Che poi dopo mandiamo anche la spedizione Intanto ragazzi Sono molto lieto di dirvi Che sono molto contento Di tutti i risultati che sto Raggiungendo insieme a voi ragazzi Vi ringrazio di tutto cuore Poi Niente 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 Prendete tutto tempo debito Perché forse ci sarà una mega sorpresona per voi Quindi continuiamo così come al solito Che va tutto bene Domani ci sarà un episodio Devo ancora decidere Però molto probabilmente sarà su Warhammer O su Far Cry Warhammer Far Cry Bella domanda Ah mi sa che Ci arriverà la sorpresa ragazzi La serie di Far Cry 3 Farò Farò la campagna E poi Farò solo la cattura degli avamposti Vi farò vedere E poi la chiudiamo lì perché Ci arriva la sorpresa Ci concentriamo su tante altre cose Che lo scudo Però si dai ci sta perché vi piacerà la cosa ragazzi Fidatevi Adesso Un'altra spedizione Eh Un'altra spedizione La spedizione che dovevamo fare Andiamo questo 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 Avanti Posizione Diciamo però 300 Sì 314 Puoi farmela 314 Ok Allora io ti dico 320 330 Esagero 360 Arrivi fino a 360 Coordinate Diciamo 17 Sì Mi va bene Anzi 4 No 382 360 Ok 2 360 17 Ok Avanti Ma non attacco Ho detto una spedizione Ho detto spedizione Spedizione Questo 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 E questo Avanti Cambiamo questo qua 380 Non ancora no 360 Ok Spedizione Allora ragazzi Oggi abbiamo fatto La nostra spedizione Intanto qua C'abbiamo le nostre Due flotte Che si muovono 24 minuti Per la Fondazione Della Colonia E 44 minuti Per la spedizione Allora ragazzi Termine qui Il video per oggi Se il video di oggi Ragazzi vi è piaciuto Votate e commentateci Se vedete il prossimo video Molto probabilmente Ci saranno delle novità In arrivo Ciao A tutti ragazzi Ciao